Sento un motore in lontananza, siamo qui in attesa del nostro amico Matteo che viene a raccontarci di un'avventura in motocicletta. Lo aspettiamo! Ciao Matteo, tutto bene? Ciao Roberto, bene bene grazie. Come è andato il viaggio? Molto bene, è stato molto bello. Quindi raccontaci un po', dove siete andati? Avevamo poco tempo a disposizione ma volevamo fare qualcosa di interessante verso est, quindi la scelta è ricaduta sulla traversata di parte dei Balcani in fuoristrada, con l'idea un po' pazza di riuscire a coprire 2000 km in 5 giorni, di cui 1000 km di fuoristrada. Ce l'avete fatta? In parte perché sono successi un po' di imprevisti. Perché avevi bisogno di uno smartphone ottimizzato per l'outdoor? Perché l'idea di fare così tanta strada a velocità comunque ad un buon ritmo per coprire questi 1000 km di fuoristrada in poco tempo mi ha portato a essere un po' renitente, a portare via la Reflex o comunque una macchina fotografica o tanto materiale che poteva potenzialmente rompersi in caso di cadute e volevo qualche cosa di snello che mi consentisse di navigare con le applicazioni GPS su queste tracce fuoristrada ma contemporaneamente scattare qualche foto, fare qualche video, quindi avere un unico dispositivo polivalente. Perché la scelta è caduta sul Crosscall? Mi è sembrato Crosscall la soluzione più completa. Sensori ambientali, capacità della batteria, la parte raggede ben studiata e quindi la scelta è ricaduta su Crosscall. Devo dire che è stata una scelta positiva. Tu hai utilizzato l'Action X3, hai già visto che sul Tracker X4 qualcosa è stato fatto? Posso fare un esempio che è quello per esempio del comparto video, è stato proprio implementato un sistema, una ripresa video di un Action Cam rispetto a quella di un telefono, quindi questo è sicuramente positivo per un dispositivo che deve fare un po' entrambe le cose. Piuttosto che la base di ricarica, noi abbiamo utilizzato un cavo collegato via USB però al vincolo di non mantenere il comparto stagno waterproof del telefono durante la ricarica. Vero è che la capacità della batteria ha compensato egregiamente questa mancanza. Ci sono comunque un sacco di accessori che ti permettono magari di usare direttamente un navigatore di quelli standard sulla moto. Vedo che ne hai uno montato. Sì, un sacco di case dell'ambiente motociclistico e fotografico producono dei case più o meno stagni. Io ho sempre utilizzato questo modello però ad esempio questa mattina già per la differenza termica si vede che si è formata della condensa all'interno. Mentre con il cross-call montato direttamente qui abbiamo completa leggibilità del monitor. Non ci sono stati problemi di riflesso col sole, anche sotto l'acqua è stato completamente leggibile e non c'era il problema di avere un'ulteriore barriera ottica per poter leggere correttamente il monitor. Abbiamo visto che si aggancia magneticamente però c'è anche una sicurezza. Sì, devo dire che questa era una delle cose che mi preoccupavano nella famosa scelta tra le varie possibilità che mi avevi prospettato e il fatto che cross-call abbia studiato questo sistema di aggancio che è magnetico in prima battuta ma che ha anche un sistema di sicurezza meccanico è stato uno dei criteri determinanti. Il telefono è veramente molto fisso. Posso dirti che abbiamo fatto dei tratti di sterrato estremamente veloci con media superiore ai 60 km orari su sasso smosso dove mi aspettavo che le vibrazioni portassero a staccare tutto. Invece posso assicurarti che il sistema si è comportato egregiamente quindi mi ha veramente stupito questo sistema semplice se vuoi ma efficace. Il sistema di aggancio è sicuramente efficace per tutti quegli sport un po' movimentati in cui c'è bisogno di avere un sistema di aggancio forte, efficace. Abbiamo parlato di navigazione. Come è andata con ricezione satelliti? È andata molto bene. Il telefono riceve anche i satelliti GLONASS. Abbiamo fatto delle porzioni veramente fuori dal mondo. Nel nostro viaggio abbiamo attraversato tutta la Bosnia, il Montenegro e parte dell'Albania e non abbiamo mai avuto problema di perdita di satellite. L'aggiornamento è molto veloce. Ci siamo appoggiati a Osman con le mappe open source e alcune open MTB map perché ci permettevano di leggere bene anche quello che era sentiero. E devo dire che è andata molto bene. Sono molto soddisfatto. Il sistema X-Link offre diversi accessori. Cosa ne pensi della X-Armand Band? Potrebbe essere carino. È un altro punto di vista. Piuttosto che anche banalmente quando si lascia la moto per esplorare a piedi qualche zona diventa comunque comodo. Tra gli accessori c'è anche il power bank ad aggancio magnetico X-Power. Di quello cosa ne pensi? Noi banalmente abbiamo sperimentato questo malfunzionamento elettrico che non permetteva di utilizzare la presa USB e quindi ricaricare il telefono. E ci siamo trovati a fare anche due giorni di seguito in mezzo al nulla. Quindi sicuramente avere un po' più di batteria è funzionale. Il fatto di poter ricaricare tutto per via magnetica ancora di più perché ti permette di mantenere stagno tutto il sistema. Chi ci sta guardando magari ha visto la moto, vede che riconosce qualche particolare ma altri no. Raccontaci un po' anche della genesi di questo mezzo. La genesi di questo mezzo è un affidabilissimo Transalp 600 del 1993. Non si presenta benissimo esteticamente perché i viaggi l'hanno un po' messa alla prova. Però meccanicamente è un mezzo perfetto che ha subito un po' di migliorie funzionali a quello che dobbiamo fare. Quindi serbatoio maggiorato, miglioramento del comparto sospensione, del comparto freni. E stiamo lentamente lavorando anche la parte estetica. Quindi prima o poi te la mostrerò in una mise più elegante. Il serbatoio l'avete rubato da un Africa Twin. Esatto. Questo colore arancione richiama un po' invece l'EKTM. E questo è quello che abbiamo trovato. Ti ringrazio di queste tue opinioni sul CrossCole Action X3. Sono sicuramente importanti avere delle opinioni direttamente sul campo. Per il momento ti lascio ripartire per i tuoi vari viaggi. Ci risentiamo poi allora se riusciamo ad avere qualcosa di interessante a farti provare per la prossima impresa motociclistica. Volentieri. Grazie a te. E alla prossima. Alla prossima. Ciao Roby. Ciao. Ciao.